Ci vuole coraggio a fuggire, ci vuole più coraggio a fuggire, in questo momento in modo particolare. Il caffè è più buono se ristretto. Forte sì, ma non troppo lungo. Se vuoi prenderti il tempo per gustarti una brioche, molto meglio il cappuccino. Sempre forte, ma pacato. Un cappuccino con Paolo, quando il tempo di un caffè non basta più. Sempre con Paolo Pugni. Lo diceva anche il famoso John Ronald Reuel Tolkien nel suo saggio Albero e Foglia. L'evasione del prigioniero non va confusa con la fuga del disertore. E gli fa eco nel suo libro Cammino, al punto 132, un santo, San Cosè Maria Escrivà de Valaguer, che dice non avere l'aviltà di fare il coraggioso, fuggi. Ma com'è questa storia che bisogna fuggire? Che fuggire non è un'aviltà, anzi ci vuole coraggio per fuggire. Io credo che quello che Tolkien ci suggerisce sia una chiave di lettura che ci permette di comprendere cosa intendiamo per fuga, cosa intendiamo per evasione, cosa intendiamo per diserzione. Sono elementi diversi che ci aiutano a comprendere oggi quello che va fatto, va fatto, non possiamo fare. Certe volte va fatto e mi assumo tutta la responsabilità di questa affermazione nel mondo di oggi. Perché in fin dei conti, con un gioco di parole permettetemi, è tutta una questione di responsabilità. Da che cosa fugge il disertore? Cosa vuol dire disertare? Vuol dire abbandonare le proprie responsabilità, lasciare alle spalle le proprie responsabilità, andare in fuga da ciò che dovremmo fare, dalle persone per le quali dobbiamo essere presenti, per le quali dobbiamo farci carico, alle quali dobbiamo rispondere anche con la nostra vita. Mentre la fuga del prigioniero, l'evasione del prigioniero è un tornare alle proprie responsabilità, è uscire da una situazione che mi nega le mie responsabilità, mi impedisce di farmi carico di quello che devo. E quindi fuggire dalla prigione, da una prigione ingiusta evidentemente, e questo è il messaggio di Tolkien che fa riferimento evidentemente a un mondo di guerra, di combattimento, a una battaglia, a degli eserciti che sono in campo e non dimentichiamo che milizia est vita homini superterram, come già ancora Giobbe ci ricordava, la vita degli uomini sulla terra è una battaglia, una battaglia continua, la pace si ottiene con la battaglia, bisogna capire chi è il nostro nemico e il più delle volte il nostro nemico siamo noi stessi. Ecco, è qui che dobbiamo fare la differenza. Che cosa vuol dire oggi avere il coraggio di fuggire? In qualche modo mi rifaccio al cappuccino precedente nel quale ho spiegato perché in certe circostanze sia meglio tacere. Tacere quando non aggiunge nulla alla situazione, quando è un nostro sfogo, una nostra affermazione. Che senso hanno tanti post, tante uscite nel mondo virtuale in cui noi affermiamo, magari con quel crudo sarcasmo che nasconde sotto forma di una domanda, una tagliente dichiarazione di presa di posizione, un giudizio, spesso e volentieri anche una condanna. Cosa aggiunge? Pensiamo che con quello noi riusciamo a modificare il parere degli altri? Ci ricordiamo la maieutica, in che modo può realmente aiutarci? Ci ricordiamo cosa hanno fatto i grandi che hanno influenzato, non sto parlando di Chiara Ferragni evidentemente, che hanno influenzato il cambio del mondo? Sono stati forse persone che hanno saputo parlare con arguzia, con tagliente crudeltà o persone che facevano domande che toccavano il cuore. Stiamo aggiungendo o stiamo togliendo? Questo parlare è qualcosa che aiuta gli altri o aiuta noi stessi e cerca di ottenere dei battimani? Consideriamo il momento e le circostanze. Anche nel lavoro, Covey dice che in qualche modo, certe volte bisogna fuggire. Quando? Quando non posso dare valore aggiunto al mio cliente. Quando quello che sto facendo per il mio cliente non serve. Covey, nel suo libro Le sette regole del successo, Seven Habits of High Efficiently People, il titolo originale che è molto più efficace, dice se non puoi dare qualcosa in più, se non puoi dare valore, se non puoi aiutare, rinuncia. E nel manifesto di vendere valore, in maniera molto banale, riprendo questo punto affermando al punto 14 del manifesto dare valore al cliente vuol dire in alcuni casi rinunciare alla vendita, che non vuol dire rinunciare al cliente, anzi. Lo stesso vale per i nostri amici. Se non possiamo aggiungere, che cosa serve? Che cosa serve creare la rissa? Che cosa serve voler a tutti i costi dire qualcosa? Però attenzione, non è che il silenzio, non è che la fuga sia sempre la soluzione migliore. Vi posso citare due esempi. Uno è quello della... Tutte cose che riguardano me. Quindi mettiamo subito in chiaro questo. Uno è l'errore, uno è la fuga del disertore. Quando non ti fai più sentire con degli amici per tanto tempo, amici che per te rappresentavano talmente tanto da averli eletti nel tuo cuore e poi trascinato dalle circostanze, dalle situazioni che non diventano una giustificazione ma sono solo un alibi, finisci per perderli di vista, per dimenticarti di loro, mantenerne un ricordo forse ma dimenticarli. Questa è la fuga del disertore. Non è il silenzio di chi vuole bene. Il silenzio di chi vuole bene è quando un amico, perché travolto dal suo momento particolare, ti offende anche in pubblico, ti attacca in pubblico perché ritiene che così possa dare più valore a quello che sta facendo, senza rendersi conto che forse si rende solo ridicolo, si rende solo imbarazzante. Cosa serve? Cosa serve andare a farglielo notare? Cosa serve intervenire addirittura in pubblico per sbeffeggiarlo? Non serve assolutamente a niente. Meglio tacere e aspettare con grande disponibilità, braccia aperte, che l'amico magari torni per dirti scusa, per dirti non volevo farlo. È coraggio fuggire da situazioni che possono soltanto creare male, che possono produrre delle condizioni negative, che possono produrre il male con la M maiuscola se credete che ci sia questa possibilità, cioè se pensate che esistano un bene e un male oggettivi con la lettera iniziale maiuscola, proprio a indicare questa particolare presenza. E quindi fuggiamo, fuggiamo se ce n'è bisogno, senza avere la presunzione, l'orgoglio di metterci la faccia, perché spesso e volentieri, dentro quel falso coraggio, in realtà si nasconde la più profonda delle tentazioni. Quell'orgoglio, quella hubris che ancora gli antichi segnalavano come il peggiore dei peccati, quella superbia vite, per citare San Giovanni, che alla fine ci distruggono. Perché il contare solo su noi stessi, piuttosto che farsi aiutare anche da una fuga, alla fine ci danneggia. Buon cappuccino a tutti. Un cappuccino con Paolo va in onda grazie a Podbits, il team che ti aiuta a tradurre le tue idee in podcast e la tua voce in libri. Trovi tutti i caffè e i cappuccini con Paolo sul canale Telegram, telegram.me slash caffè con Paolo, senza l'articolo mi raccomando, caffè con Paolo. Sempre su Telegram puoi contattarmi, telegram.me slash Paolo Pugni. Grazie e alla prossima puntata.